Sentezze, offerte in vendita in cambio di soldi, viaggi, champagne e addirittura prestazioni sessuali, sì, in cambio di sesso. Così il presidente della sezione di corte d'appello di Catanzaro, Marco Petrini, avrebbe mortificato la sua funzione di magistrato, ripreso dalle telecamere nascoste, dalle immagini che vedete, mentre conta i soldi nella sua stanza di Palazzo di Giustizia. Processi per mafia, per omicidio o vicende civili, il giudice non avrebbe fatto nessuna differenza, tanto che da dover rispondere adesso non solo dal reato di corruzione in atti giudiziali, ma anche avrebbe agito con l'aggravante mafiosa perché avrebbe agito con la piena consapevolezza e con la finalità di agevolare la compagine d'indrangheta locale di Guardavalle. Ancora una volta al dare al di là delle indagini è stato il lavoro della DDA di Catanzaro, guidata dal procuratore capo Nicola Gratteri, che ha poi trasmesso tutto il fascicolo per competenza alla procura di Salerno, perché i reati che coinvolgono magistrati in servizio nel distretto di Catanzaro finiscono a Salerno. Gli investigatori si erano infatti imbattuti in intercettazione dal tenore inequivocabile. Di all'amico tuo, che è un amico mio, che, assicurava Petrini, lui ha la causa vinta al mille per mille. Le indagini hanno confermato meccanismi ormai consolidati. A tenere la fila delle sistematiche attività corruttiva sarebbe stato Emilio Santoro, detto Mario, medico in pensione e dirigente dell'ASP di Cosenza. Sarebbe lui a stipendiare mensilmente il magistrato per garantirsi i suoi favori, cercando anche nuove occasioni di corruzione. Una sorta di broker, la Trade Unions, scrive il GIP di Salerno, tra corruttori interessati all'ottenimento di provvedimenti giudiziari favorevoli e il magistrato Petrini, con il quale intrattiene relazioni di intensa frequentazione e stretta confidenzialità. Compà, svela Santoro, dopo domani mi devo incontrare con lui che gli debbo regalare, e poi naturalmente all'intercezione non si capisce, quanto gli do la busta. 1500 euro al mese, sono due mesi, io gli pago il mese, a Milano, a Milano gli pago il mese. Insieme a lui sono stati tratti in arresto Luigi Falzetta, Giuseppe Dorsi Prato, ex consigliere regionale, l'avvocato del foro di Locri, Francesco Saraco, e poi Vincenzo Arcuri, Giuseppe Caligiuri, agli arresti domiciliari, e finita invece l'avvocato cadanzarese, Maria Tassone, detta Marzia, anche se le persone risultano invece indagate. E proprio quest'ultima vicenda è connessa al rapporto tra il giudice Petrini e l'avvocatessia Tassone, tra i difensori del processo Ragno e con la quale Petrini avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale, per favorire la professionista nei processi penali, nei quali aveva assunto la difesa, scrivono gli inquirenti nel capo di imputazione, riceveva indebitamente da quest'ultima per l'esercizio dei poteri correlati alle sue funzioni e in almeno tre occasioni, per porre in essere atti contrari ai doveri d'ufficio, utilità consistite in prestazioni sessuali. Insomma, la procura di Saderno, ammesso sotto inchiesta, è fatto perquisire anche un'altra avvocatessa del foro di Catanzaro. Anche lei avrebbe avuto una relazione stabile con Petrini, il quale avrebbe omesso, secondo l'accusa, di astenersi dal comporre il collegio giudicante nei ricorsi tributari. I finanzieri del comando provinciale di Crotone, che hanno lavorato a questa inchiesta, l'hanno voluto dedicare al loro collega e amico prematuramente scomparso. L'inchiesta, insomma che è spociata nei tre arresti per Drangheta, eseguiti nella mattinata di ieri a Cutro e a Crotone, è dedicata a Tommaso Gatto, vicebrigadiere della Guardia di Finanza in forza alla Caserma Pirillo. era conosciuto col nome di Thomas dagli amici, scomparso prematuramente nell'ottobre scorso. Thomas Gatto aveva svolto numerose inchieste che si occupavano di criminalità organizzata, lavorando per anni a stretto contatto con i magistrati della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.